A Rovigo sono apparse diverse scritte offensive nei confronti della polizia locale, cosa ne pensa? Penso che naturalmente siano gesti di inciviltà intollerabili, segno di una maleducazione che purtroppo si è riscontrata negli ultimi tempi e anche in altre direzioni. Credo che sia necessario effettuare maggiori controlli perché effettivamente capita spesso di trovarsi in situazioni in cui si ha l'idea che la città possa essere anche un po' sguarnita e un maggiore controllo sarebbe opportuno a mio parere. E' stato imbrattato anche un monumento dal valore storico con queste scritte? Anche questo è un gesto che segna l'andare del tempo, siamo in epoca di disprezzo di istituzioni e di valori importanti, che dire, oltre al controllo anche maggiore educazione, maggiore educazione degli studenti, dei ragazzi, delle persone a rispettare le nostre tradizioni, la nostra cultura perché l'educazione è fondamentale. Io penso che sia una cosa indegna, io spero che siano dei ragazzini, gente, è una cosa che non si fa, per quanto possono avere, insomma si va sempre a confronto, se uno ha qualcosa da dire va a confronto, spiega le proprie motivazioni. Non certo, prima, deturpare delle zone che sono pubbliche, anche perché adesso per risistemare siamo noi cittadini che paghiamo, quindi è una cosa villana, brutta, ignorante, non si fa. Certo, deturpare monumenti perché ho saputo anche che c'è un monumento, deturpare un monumento con scritte di qualsiasi genere è sempre una cosa brutta e da non fare, insomma. Io penso che sia una cosa incivile. Non credo che la cosa possa aiutare in qualche modo a diminuire eventualmente le multe che vengono fatte. Queste qui non sono cose che vengono fatte, comunque la gente forse dovrebbe imparare a parcheggiare meglio la macchina, secondo me. Alcune iscritte hanno anche rovinato un monumento come era già accaduto in Piazza Vittorio Emanuele, di questo fatto invece cosa ne pensa? Beh, questo non va affatto a prescindere, i monumenti sono comunque un bene comune e poi sistemarli fondamentalmente costa a noi, quindi alla fine è solo la comunità che ci rimette. Ne penso che purtroppo la maleducazione è un male comune, troppo frequente, purtroppo oltre al fatto offensivo c'è anche il fatto del costo per ripristinare il tutto e purtroppo bisognerebbe dotare tutti i punti di videocamere per cercare di pigliare i responsabili. E' un peccato, oltre al fatto che diventa una spesa per la collettività. Alcune iscritte hanno deturpato anche un monumento che aveva insomma un valore storico. Qui il discorso si fa serio perché oltre al fatto che dopo bisogna farle ripristinare dai beni culturali, da aziende specializzate, appunto per questo purtroppo andrebbero sorvegliate, video sorvegliate i punti della città che hanno dei beni storici che importanti. E ecco.